Adorata e venerata da duemila anni, Maria, vergine e madre, ha esercitato da sempre un grande fascino sugli artisti. Non si sa che aspetto avesse, ma è la donna più raffigurata della storia. La storia è la donna più raffigurata della storia. La storia è la donna più raffigurata della storia.